bella a tutti ragazzi lo chiuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di clash royale ieri abbiamo potenziato la fireball e si sta rivelando davvero super interessante per il main deck oggi visto che sono a meno 200 oro per averne ancora 100.000 ed eventualmente maxare un'altra carta voglio buttarmi di prepotenza nell'arena fare qualche partita in ladder e portarsi a casa sia un po di cash che un po di trofei subito con log rider contro oggy froggy dei die boys sul ponte ha counterato con sua madre e anche sua zia ho visto che ha giocato uno spirito di ghiaccio un tronco e addirittura un arciere pirotecnico andiamo subito a counterare con il moschettiere che riesce a non subire danno mentre le altre tre truppe possono tranquillamente andare a danneggiare moschettiere fantastico a livello 14 si rivela davvero eccezionale torri a 2405 la sua 3885 la mia nuovamente con uno spiritino del ghiaccio non se l'è voluta rischiare neanche con una hit del moschettiere secondo me qui ha un po sbagliato apertura con il mango di ghiaccio dietro la torre sulla destra vediamo se va a counterarlo o lo lascia andare in supporto il bombarolo pronto subito con il nostro rider 1 2 me lo aspettavo me lo aspettavo non deve saltare non deve saltare non deve saltare questi faranno male la fattura non hanno attaccato il mio moschettiere quindi in realtà è stata abbastanza comoda la possibilità di counter arlo subiremo invece un attacco due forse dal modo di fuoco no uno solo fantastico 2003 27 1142 la sua torre non ho nessuna fretta di partire pago di ghiaccio proprio nello scadere del decimo elisir andiamo a togliere l'arciere più tecnico questo è un attacco fatto con la fireball adesso andiamo in difesa in realtà vediamo se lui va nuovamente infatti non avevo dubbi partisse con il mago bombarolo dietro mini pecca prepariamo anche i mascalzoni non facciamo entrare il suo mago di fuoco moschettiere da dietro lo aiutiamo immediatamente arciere pirotecnico devo toglierlo perfetto tolto uh per un pelone è andato giù a tower bombarolo dietro mascalzoni ok mi serve subito il mini immediatamente il mini immediatamente il mini tronco per fermare tutto questo casino uno l'ha tolto o grider di nuovo in ripartenza vediamo come lo va a counterare questo grider niente perché non ha più niente let's go let's go ops ops non era più nulla no pigatilli sta a fireballe let's go è la prima ce la portiamo a casa nice 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 vediamo se ci siamo intanto guadagnati anche 50 di gold 30 corone non sono sufficienti ah no invece ce l'abbiamo fatta è vero perché c'è la come si chiama l'evento quello dei 200.000 gold giocando fantastico abbiamo preso i 100.000 adesso bisogna pensare cosa potenziare qualcuno nei commenti mi scriveva potenzia il bombarolo bombarolo è veramente super interessante lo utilizziamo proprio in questo momento purtroppo non ho lo grider pronto quindi devo mandare da solo alla deriva dobbiamo fermare il valchirione forza forza valchirione è fermato ho grider intanto eh ci sta non può avere lui troppo elisir per counterare lo grider la scalzone però comunque rimane in vita ha giocato il il re dei teschi come cavolo si chiama porca 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 cerchiamo di spostare vediamo se riusciamo ok e se io giocassi un moschettiere molto dietro perfetto l'abbiamo anche counterato meglio del previsto questo personalmente mamma mia salvati 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 porca miseria si è salvato? non si è salvato riusciamo comunque a togliere la princess che era scomodissima e forse il mini pecca va anche sul pirotecnico no non ce la fa devo tenere il tronco ok perfetto stavo dicendo devo tenere il tronco per la gang di goblin lui mi ha aiutato tantissimo giocandola sul bridge 1074 prendiamoci il nostro tempo per la difesa piano 1074 la sua torre in alto a destra 1362 la mia in basso a sinistra bombarolo a sinistra devo andare in difesa vai adesso incrocio le dita speravo qualcosa di meglio la torre è andata mi serve il bombarolo che mi aiuti immediatamente bisogna fermare subito questo golem i danni sono buoni i danni sono buoni ok c'è purtroppo il suo re degli scheletri che sta recuperando un sacco di vita attenzione però all'arciere pirotecnico super scomodo bombarolo nell'angolino oh cavilo mi sono sbagliato non ho avuto di non avere più la torre si comunque ce l'abbiamo fatta difendiamo 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 oh grider centrale andava giocato sulla sinistra ma va bene vai let's go let's go let's go stregone di ghiaccio preventivo in difesa bombarolo sulla destra mini pecca let's go e sono due dai gira 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 è come il mio deck ragazzi è come più l'oro bonus abbiamo 101.091 c'è proprio intanto un baule d'oro che ce lo siamo guadagnati più 644 abbiamo anche 102 jolly epici spirito elettrico 16 goblin 11 lapidi vediamo se possiamo fare qualche cosa nel deck qua sarebbe veramente strabello poter avere le leggendarie maxate ma per adesso sto portando su i mascalzoni oddio il libro delle carte no no questo qui ti dà tutte le carte che ti servono per potenziare una truppa se non ricordo male io personalmente lo terrei per una leggendaria andiamo a farne un'altra andiamo a fare la tripletta andiamo a fare la tripletta io vi consiglio di utilizzarlo il mio deck ragazzi a me gira davvero bene contro maestro mark dobbiamo andare nei prossimi video a 6.000 ragazzi per forza mago di ghiaccio sulla sinistra valchirione per lui sulla destra apriamo morbidi con un bombarolo pronto log rider comunque che andrei a giocare proprio adesso spero che i mascalzoni possono agganciare il suo arciere magico così non è arciere magico comunque continua ad andare sul mio mascalzone principale riusciamo a toglierlo moschettiere dobbiamo anche non difendere questi sgher no ma in realtà dovevamo erano tre sgherri full quindi ci sta attenzione perché arriva anche un momento qui la fireball è buona ma un po' scomodo il fatto che abbia utilizzato la furia sui suoi maialini questo però mi ha permesso di avere un moschettiere completamente libero che gli ha fatto full damage alla torre in alto a sinistra 1.613 1.896 entrambe le torri quelle più danneggiate ma io personalmente aspetterei un attimino che si torni a 10 di elisir e poi un mago di ghiaccio preventivo sulla destra ci abbiamo preso domatore liberiamo la possibilità di giocare alla fireball ok lo va a counterare quindi pecca deve essere preso togliamo il cerbo taniere possiamo subire danno dagli sgherri non è un problema vorrei non subirlo invece dall'artiere magico qua ho sbagliato io ah che errore che ho fatto ho giocato una casella più avanti il bombarolo l'arciere magico non è riuscito ad entrare sul ponte è un po' stufato doveva fare questa play dai è un po' stufato andiamo noi adesso io non so se abbia un cerbo taniere qualcosa che vuole giocarmi sopra ecco giuda di nuovo però è buono perché in realtà gli facciamo la torre quindi ok allora 3222 counteriamola un attimo bombarolo per forza in realtà il moschettere mi è servito un po' come capo espiatorio ha subito i danni da parte delle sue truppe e io andrei molto molto violento così liberiamo la possibilità alle truppe di entrare tanto i mascalzoni vanno sulla sua torre mi ha fregato attenzione mi ha fregato completamente bombarolo forse no non così completamente ok bombarolo ci aiuta davvero tanto qui 630 la torre non dovrebbe più farcela fare nulla 195 avrà una fireball immagino domatore di cinghiali spingiamo noi per forza non posso fare altro davvero non ci credo mamma mia ok 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 ho sbagliato che sfortuna mi sta veramente clacciando la partita questo io ho un po' paura direi di spingere un attimo visto che lo vedo bello gasato c'è solamente ah c'è il valchirione per difendere non penso che gli basti 528 107 e con una fireball andiamo a chiudere questa tripletta del video di oggi wow 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 ragazzi io spero che vi sia piaciuto anche il video di oggi di Clash Royale siamo arrivati 5.800 circa più o meno qualcosa del genere con le coppe 5.776 la ROD tu 6.000 è ancora lontano io vi ringrazio per averlo guardato vi mando un abbraccione noi ci vediamo al prossimo video ciao